ragazzi ragazzi rieccoci qua su eh beh dopo un po' non è esperienza il ragazzo ovviamente rieccoci qua su Life is Strange 2 proseguiamo insomma la nostra avventura siamo arrivati all'episodio 4 siamo scappati dall'ospedale dove ci hanno curato eh anche se in realtà è stato un po' stupido a rivelare dove si trovava il nostro fratello anche se in realtà non siamo stati precisi abbiamo detto solo lo stato cioè abbiamo parlato con Joy del Nevada non mi pare di avergli detto esattamente il luogo eh però vabbè vediamo un po' cosa accadrà adesso eh qua ok indicatore del carburante già visto cavi avevo già visto la cartina l'avevo già guardata mi pare si si ok eeeh obiettivo da visita ok ah giusto ok infatti mi sembrava strano ad avere che abbiamo preso il obiettivo da visita di Flores di Flores ma mi ha parlato con tutti allora dormiamo eh potevamo anche sdraiarci un attimo eh non dormire seduti sì ecco eh ok Ah no, sta sognando Grazie Grazie Non c'è molto da dire visto che Non preoccuparti, ne è manco iniziata Perché sto sognando Ok ok Keep your secrets to yourself I won't pry Ah Could that be Daniel? Hola Hello Everything ok Laila? Oh Daniel better not be giving you any sass Nah He's an angel We went to the swing pool And now we're making popcorn for movie night Yes It's so cool Hey Sean Don't crash the car He's driving real slow and safe Like a grandma Thanks for checking in We'll buzz you when we hit the motel Laila, you ready? Sounds good And Sean Jen wants you to call her When you have time Ho 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 Sounds like someone is still thinking about you Yeah Yeah I know Seriously though How are you really doing? Hmm It's stupid but I miss you I miss you too my son But this is all part of growing up I know I don't like it I have total faith in you Sean You're a Diaz You were born to Rome And find your way home God I love you dad Wish I would have told you more You didn't have to tell me You showed me Oh By the way Hey Wake up Huh? Huh? What? Yeah, what the fuck are you doing on our property? Huh? Oh man I crashed hard Oh yeah? Come on out boy Who the fuck is that? A fucking kid Get out Me ne sto andando Look I'm leaving okay? No you ain't Step out Or I'll call the cops You don't want that boy Me ne vado subito Chiama chiama No need to I'm leaving Now You deaf? I said out We don't need cops to deal with assholes like you anyway Listen I don't want any trouble Too late for that boy So tell us what the fuck you're doing on our land I Drove for so long I I had to pull over to get some rest you know I swear I swear I had no idea this was your property There's a fucking sign Didn't you see it? I Was too exhausted I guess I missed it He's just a kid and he's hurt look Yeah? What happened to your eye? Eh Un incidente I Got into an accident Oh yeah? Uh huh Move it Ma scusa ma questi che cavolo vogliono? Cioè non so What was it? Oh Please I just want to go Ho ho What's this? Drugs? Yeah For my eye Oh yeah Did you steal them? Like this car? Uh Well Well I lost my keys And My friend helped me start it You mean you hot wired it? Holy cow fucking car thief too Take his backpack Dude come on Get it let's see what he's holding Cioè ma io non lo so Tutti a me capita Cioè Nothing good Any money? Fucking toys man You still play with toys? Seriously? It belongs to my brother Leave it alone No No Non è Non ne vale comunque la pena Hey Hold on a sec Mike You speak Spanish Pedro? Huh? What? What? Hablas Espanol Chad So professor How do you say I'm a dirty thief? No no Non farlo Don't do this Oh You don't want to share your language? Okay Maybe you know this one Uh I'm a dirty thief With one eye Ha 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 Hmm No No Just stop please Figures You come here to steal but don't want to give back All I want to do is learn Espanol Might be our official language someday right? Si senor? So One more lesson How do you say How do you say Is not My country Hmm No son I don't know Told you Well That's the only one you should know boy Learn it Look Chad It's gonna rain Let's go before we get soaked Hold on This little thief is fucking with me You're really pissing me off you know that? But I'm willing to give you one last chance to make things right Sing something What? Just pass the audition And you're free We'll be very upset if you refuse Cantare Eh che cavolo canto Vabbè Vediamo Vediamo Estrecita Donde estas? Si ma non in spagnolo però anche te Eh Pregunto Che seras E nel cielo E nel mar Eh che cavolo ne sapevo io Un diamante De Un diamante Let the boy finish this song Go on Go on Go on Estrecita Donde estas? Le pregunto Que Se Es Cuando El sol Se Ha E Cuando Nada Brilla Mas Tu Nos muestras Tu Brilla 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 Sin parar Estrellita Donde estas? Me Pregunto Che seras Me Pregunto Che seras Niente Niente Basato Questo Secondo Capito Sul Pazzismo A quanto pare Non è Che 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 Cioè non ci hanno fatto niente L'abbiamo assecondato Attento lui Povero pirla Anzi un pirla e basta Niva Mace I soldi ci hanno sequestrati praticamente E se no facciamo benzina Che mazza e beh Possessi dal freddo Il caldo torrido E beh Sperando che sia lì Com'è che ci ha lasciato l'indizio Però Vabbè Ah possiamo accelerare un attimo La fatica Sombra Di giorno Di notte Fa freddissimo Disegna Aspetta No Qua Ok Just draw now Don't think about anything else Got a good picture of it Mh-mh-mh I'm ready to draw now This place is so empty At least I won't mess up perspective for once Vabbè I guess that's an ok start But I can keep going Ok Just draw now Don't think about anything else Vabbè Vabbè Però dai Cioè Mi è venuto bene Aspetta I guess I could spice things up a bit Make the whole thing funnier Disegniamo l'oasi Dobbiamo essere positivi Adesso ricominciamo Ok Just draw now Do you think about anything else Prima disegnavamo quello che effettivamente vedevamo Adesso Anche quello che Immaginiamo Bevi un po' d'acqua Non c'è nient'altro Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ah ci si può alzare Ok Alza Andiamo avanti Animale morto La carcassa Vabbè La natura Eh ma qui ci serve Un passaggio Autostop Ma se fa Wow Non so Io non mi fiderei Eh però Eh però Apri No guarda Ti ringrazio Ma ti ringrazio Non pensavo che ci avrebbero fatto scegliere Ma Guarda Eh sarà Faticoso Quello che vuoi Certo Così avremmo accelerato I tempi Però Quindi immagino Qualche ora dopo Eh Tanto se ha detto Che era tra Cioè che l'arrivo È tra qualche ora Si può fare anche a piedi Abbiamo fatto fino adesso Siamo arrivati Belli cotti Triscione pasquale Eh beh Cassetta Cassetta Della posta Oh You ok now? Is it gone? Ah, credo. Bene. Scrivete dentro. Ok, papà. Ah, ciao. Tutto tutto bene? Si, si. Non ti preoccupi. Sei qui per il servizio? Ah, non si chiede qualcuno. Non ti preoccupi, tutti è benvenuti qui. Non importa chi sei o da dove sei. In gli occhi, siamo tutti uguali. Plus, abbiamo una buona spiegazione dopo il servizio. Stai tanto quanto vuoi. Ok, ehm, grazie. Non ti preoccupi. Sono solo un vettacolo per un reverente. Grazie a lei. Ha, sembra che sei qui per vedere il nostro nuovo miracolo, certo? Che miracolo? Ehm, che miracolo? Ha! Non ho mai ascoltato di lui? Allora non lo spiegherò per te. Il sarà qui ogni minuto ora. Venite dentro e guardate per te. Eh, Daniel... Mica... Dico degli ospiti. Ah, grazie a Dio per l'AC. Dio per l'AC. Dio per l'AC. Fischer, grazie. Non ci crederei se non l'avessi visto con i miei occhi. Daniel è proprio un angelo inviato dal Signore. Alleluia. Finto. Grazie, Spirito Santo, averci donato l'angelo Degnale. Venuto per ripulire lo sporco e i peccatori da questo mondo. Mi dici la sua anima, un amico. Ne avevo sentito parlare e ora non dimenticherò mai questo giorno e questa chiesa. La reverenda madre è davvero uno strumento del Signore. Amen. Sì, sì, è lui il miracolo, eh. Ma immaginavo. Ah, questo è il bagno. Vabbè, insomma. La vatti la faccio. Prima di riposare prima, per cui non mi preoccupare Daniel. Ok, nient'altro. No. Buona foto. Ricordo se mi metterà. Ma sì, per farti entrare, sì. Più che altro puoi uscirne. Ma dona... Non so quanti soldi. Quanti soldi ho, scusa. C'è 7 dollari e 19, ma guarda. Scatola a spille. Non sono proprio un fanatico delle religioni, eh. Non sono proprio un fanatico delle religioni, eh. Ma, ricordate, un serpente può entrare ogni giorno. Ma cosa? Non entriamo? Ah. Boh, vabbè. Oh, I feel your Holy Spirit. Faith. We hear that word a lot. But faith is not just a word, my brothers and sisters. Oh no. What is faith? Remember Luke 18, 27. What is impossible for man is possible for God. Amen. With that righteous faith comes the salvation of your souls. Can you cross that invisible bridge to salvation? Yes. Do you want your soul to be saved, brothers and sisters? Yes. Oh yes. You are not like all these sinners out there. So I never asked the Lord for a sign. Then, He gave me one. He spoke to me and told me that I was doing right. And to reward our great faith, the Lord sent me the ultimate gift. Yes, he did. An angel. A child graced with the power of God. The miracle we have all been praying for, waiting for. Can I get a hallelujah? Do you have faith in His power? Do you have faith in me? Yes, God. Look, we do. We do. We do. Then, please, welcome our newest member and our latest miracle. The angel, Daniel. Praise you, David. Oh, hallelujah. Praise Jesus. We're going to save us. We're going to save us. Hallelujah. 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 Here is Daniel. Oh, praise be Daniel. The prophet who was thrown to the lions by false prophets. But God saved Daniel so he could do his work. Hallelujah. Yes. Daniel was brought to me to deliver us. Praise be Daniel. To guide us from the wilderness to our destiny. Now Daniel will reveal the true power of the Lord. Praise Daniel. Praise be Daniel. Yes. 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 God is... Behold this miracle. Thank you, Daniel. Believe. What? I can't believe it. It's exploding. It's so scary. Do you feel your soul rising? Can you see it? Like the cross? Like the miracle. Oh, good God. Bless you, Daniel. Rise. Get up. I can't believe it. Stand up. Oh, God. Yes. Thank you again. Daniel's been touched by God. Oh, it's a miracle. Can you believe in Jesus? Yes. You're amazing. Thank you. Hallelujah. Oh, Lord. Thank you again. Oh, Lord. Thank you again. for coming. Oh, Lord. We have a voice. A messenger. Our flock keeps growing. I see more and more new faces. But this is only the beginning. You must spread the word. Oh, yes. Bear witness to this miracle. Oh, yes. Thank you so much for coming. Thank you. e God bless all of you Amen Praise you Daniel As our reverend said we do appreciate your kind donations this helps us keep our church and to spread the word of God oh yeah there's only a few tickets left for our picnic raffle next Sunday don't miss the child in another miracle any question please talk to me outside bless you for coming today eh è che ci ha visto sì ci ha portato qui quello là un po' religioso sì del gruppo e lo ha portato qui però adesso dobbiamo incontrarlo eh hai che stare qui magari oh uh hi I saw you out in that parking lot earlier yep that was me I like to be here too we can see the whole room and it's where a reverend mother teaches us classes whoa you okay need some water uh no sorry I'm just kind of sick oh that sucks uh that's too bad hey what happened to your eye well that's a long story that's okay my name is Sarah Lee what's yours aww you must be Jacob's sister did you get that letter from Jacob back when he was in California yes how did you know he was in California I was with him uh that's how we met you are Daniel's brother really he's always talking about you hey uh not too loud yes I'm Daniel's brother but I need some help the reverend mother says we always have to help our neighbor what do you need? uh what you fuck with then what is Daniel doing here? he's our miracle and the lord brought him right to our reverend mother I like him he's really kind and funny we play together all the time who is this reverend? you don't know her? that's her mother Lisbeth she was blessed by the hand of God when she was my age she can't ever sin the lord guides her ah già che dice così vanna questa qui è la peccatrice numero uno what is this place? this is our home our church and community the reverend mother says we were all chosen by God so can you take me to Daniel? oh yes he's gonna be so happy when he sees you he missed you so much for his birthday it will be like a late surprise Daniel you're the living proof of their faith and mine and mine I know you understand I guess I mean Sean? oh my Sean! you came back! I knew it! you've grown up and I know do I look older? what? what happened to your eye? don't worry it's okay did that happen at the farm? because of me? I'm so sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry it's over Daniel we just could walk on does it hurt? no not as much as your hair cut shut up it's different I kind of like it Sean I didn't want to leave you there nothing I could do I was so scared I even thought you were dead and it's okay we're together now yes so are you gonna stay with us now? huh? I we still need to go to Porto Lobos but we don't need to we have a new home now look one step at a time Daniel give Sean a chance to process this I'm sure this is all so overwhelming by the way my name is Lisbeth Fisher we all prayed for your safe return Sean you must be a believer now in our Lord too eh not proprio well not really no so Daniel was wrong? hmm you can be honest here Sean but first I need Sarah Lee and Daniel to grab the medicine kit we have to take care of our new guest this is a place of healing aww let's do it later I want to talk to him now Daniel now okay reverend mother let's go Daniel whoa whoa hold on well Sean it's a pleasure to meet you this is a real blessing today you were away from Daniel for quite a while I was in a coma of course I wasn't judging you so what is your plan Sean this is a blessed family and it would be good for Daniel to have you by his side you should know that the Lord has big plans for him signore eh ho te eh addio o lei god or you god of course eee so you're also for me I'm his family two young boys are not a family mark 3 25 if a house is divided against itself that house cannot stand Daniel sounds more like a prisoner than a guest it saddens me that you see things that way after everything I've done for him I know why you're scared Sean that's because your heart's full of sins I've heard everything about your journey Sean and I cannot let a sinner like you into my community not until you make penance what? are you serious? I'm sorry my son I'm not your son and Daniel and Daniel isn't gonna be your golden cow Daniel come on why don't we ask him what he wants to do? do not touch me what the fuck what did you do? nothing enough you spilled blood in the Lord's home what happened? your brother came in here impure and acting like a criminal but he can be saved Daniel I'm sorry Sean she's right I will pray for you oh Madonna oh Madonna when you're ready we can't she's trying to manipulate you let me lead you to the one true light that never goes out I want to be your friend you're crazy let's get out of here Ben I want to stay just go there's your answer Sean we're together again so we can go right come on get off me dude what Daniel let me go asshole Daniel they're not your family stop it you just need to have faith we'll be waiting Daniel it's okay Sean Daniel my son sei incitrullito there you go satisfied now don't you ever come back alzati eh mi alzo si come on kid don't make me do this you're not gonna win ah 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 daniel daniel you're pissing me off this is private property i have a legal right to stop any intruders like you i just want my brother but he doesn't want you he was brought here this is where he's staying next time i will not hesitate to use this c'è dopo tutto quello che abbiamo passato è stato così facile ravagli il cervello karen you won't get him back like this let's go don't you fuck oh no 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 Sean, cosa succede con i tuoi orecchi? Eh, mi chiedono tutti. Why the hell are you here? How did you find me? Well? Um, I got a letter from, uh, Jacob. He said you were missing, and that Daniel needed help. I believed him. Hm, so you finally decided to check on him. You know, Sean, sooner or later, we're gonna have to talk. non so qualcosa mi dice che magari la madre ha gli stessi poteri però non so o magari che ne so così ci verranno a noi di punto in bianco in realtà lo spero li faccio vedere io non so Ok, ok. Tu sembra male, devi cambiare la dressa in breve. Porto. Secondo me sì. Divertimenica. Partecipa a un picnic privato insieme a Ravenendo Fish e al suo nuovo discepolo Daniel. Formula barbecue or you can eat, posto limitati, 20 dollari donazione. Eh sì. Borsone di Karen. I know I shouldn't peak but... Whatever. Damn. Karen does like to capture the world around her. Sono sempre più vicino, il mio cuore è impazzito, fa male. Ora ricordo, ricordo ciò che si prova. Non posso ignorare questo battito, mi spezza in due, spezza la mia essenza. Depressione mattutina, caffè, camionisti stanche, famiglie tristi. Uova terribi, non è colpa della cameriera. È una che va di fretta, starà per finire un lungo turno di notte. Il cartellino dice che si chiama Clementine, sui 22 anni, rossa tinta di castano. Il sopracciglio, il tono della pelle non mentono, un sangue irlandese. Sarà la figlia del proprietario, Maoneis. Sorriso gentile ma sovrappensiero, un po' maldessa. Sembra distratta, nervosa. Il giovane cuoco l'ha appena chiamata Clemmy. Sarà il fratello, il fidanzato. Il fidanzato. Scusa sempre quando gli ordini arrivano in ritardo, ma tanto la colpa se la prende lei. Papà e mamma sanno che esci con una collega, Clemmy. Meglio non mischiare mai il lavoro con l'amore. È una gravidanza quella che si intravede sotto il grombiule macchiato. Nel 2017 i giovani fanno ancora figli. Non cambia mai nulla. Contrini dei tini. Cosa è? Vado avanti per guardarmi indietro, facendo la terza scelta. Due volte, due volte. Giorni di solitudine e notte pieni di sogni, solo per trovare me stessa. Guardo in avanti per tornare in... Preservativi. Forse non ci voleva come figli. Basta, basta. Cartina stradale. Ebbene. 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 Cassetto. E' vuoto. Gettone del casino. Prendi. E' un souvenir. Beh, infatti. Tablet. Messaggio di Karen. Ebbene. 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 Di questa lettera. Penso che Daniel sia in pericolo. Dobbiamo aiutarlo ad andarsene da qui. Mi chiami a questo numero. La prego. Faccia presto. Grazie, Gekko. Scusate. L'ha portato qui e adesso si rende conto che ha fatto una cagata. Eh. Eh. Questo non è la sua tabletta. Cos'è? Uno. Uno. Due. Sette. Zero. Otto. C'è scritto. Cos'è? Benvenuti alla vostra nuova vita nella chiesa dell'ascensione universale di Heaven Point. Andate dunque a maestrate tutte le nazioni, battezzandovi al nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, assinando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Matteo, eh. Missione. Accettare... Madonna. Il Signore. Diffondere il Verbo di Gesù Cristo. Mantenere la fede della comunità. Cercare e salvare ciò che era perduto. Messaggio dalla Revenda madre Elizabeth Fisher. Quanto pastore della nostra Santa Chiesa ho dedicato tutta la mia vita e il mio amore agli insegnamenti del Vangelo e del nostro Signore. Sono stata benedetta ricevendo questa chiamata divina durante la mia infanzia ed è un privilegio poter diffondere il Verbo e guidare questa devota comunità di Heaven Point. Non vedo l'ora di incontrare tutti voi che cercate in noi un numero di rifugio. Insieme inizieremo il viaggio verso una nuova vita, guidati allo Spirito del nostro Signore e Salvatore. che Dio vi benedica a tutti. Ben Point in Nevada è una osi in cui chiunque può vivere secondo la propria fede in una comunità dedicata agli insegnamenti di Cristo. Chiunque condividi alla nostra fede il benvenuto per aiutarci a costruire il ponte per il Signore e il suo regno eterno. Vabbè, ok, ospitalità, graitudine e perdono. Va bene. Un sguardo, uno dei più grandi misteri del Nevada è come riesco a far convivere lo Spirito Santo con il Santo Denaro. Non sono molti i tuisti che vengono fin qui seguendo la loro religione, ma nella affiattatissima comunità cristiana di Heaven Point in Nevada un pastore carismatico è riuscito a farsi un seguito di devoti. Cognito in intervista nell'ufficio della sua chiesa il reverendo Elizabeth Fisher ha passato tutta la sua vita, come un umile discepolo del Signore che ha il compito di condividere il suo amore e la sua gloria in questi tempi bui. Da piccolo ho vissuto un evento molto forte che mi ha messo sulla retta via. Solide calorosamente mi tocca la mano. Non si tratta di me o della mia storia. Come chiunque in questa meravigliosa chiesa potrà confermare. Ed è stato proprio così. I membri della chiesa dell'ascensione universale parlano con grande ammirazione del loro pastore e di come continui a ispirarli ogni giorno. Il reverendo Fisher vuole semplicemente condividere le sue preghiere con noi ha dichiarato Corey Johnson, 34 anni, che è finito di recente alla comunità. All'inizio ero un po' scettino e poi ho assistito a una delle sue messe e riuscivo a sentire l'elettricità nell'aria quando parlava a lei. Sì, la gente piangeva e anch'io. Eh, vabbè. Eh, accontenti, ouch. Ma... Ma poi scusa, i reverendi non sono teoricamente tutti uomini. Non lo so, non sono un esperto in merito, ma... Ci sono le suore e poi ci sono... Sì, ma lo chiamiamo un attimo. No... La voglia. Eh, vabbè, ma... Aspetta, qui abbiamo letto tutte le lettere tra dei nonni... Sì. Chiamaci, ecco. Porta... Ah, questa è quella del bagno, ok. Va bene, chiamiamolo. Allora... 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 Allora...